A Montefano si sono tenuti a partire dalle 17.30 i funerali di José Luis Albino, il papà di 46 anni, morto due giorni fa in un tragico schianto a Monte Cosaro. L'incidente si è verificato in località Crocette. Una BMW stava uscendo da un passo privato mentre sopraggiungeva il centauro che si è trovato l'auto davanti. L'uomo di origine argentina faceva il camionista e stava andando a lavoro alla Transitalia. José, argentino di Las Rosas, Santa Fe, viveva a Civitanova dove lascia due figli e la compagna Sara. La collegiata di San Donato a Montefano non è riuscita ad accogliere tutti coloro che hanno voluto tributargli l'ultimo saluto. Un corteo di motociclisti a seguire di auto ha scortato il feretro nel suo ultimo viaggio. Una tragedia che ha scosso tutto il maceratese.